Domenica sera a Teramo si giocherà il triangolare tra Teramo Calcio, Pescara e San Nicolò. È la prima uscita delle due squadre professionistiche della regione dopo il ritiro precampionato svolto lontano dall'Abruzzo. Una buona occasione per i tifosi per vedere per la prima volta all'opera le squadre. Magari chi non avrà la possibilità di seguire le partite allo stadio Bonolis di Teramo ha pensato che una sbirciatina in televisione potrebbe anche darla. D'altra parte con Pescara e Teramo in campo le televisioni abruzzesi trasmetteranno indifferite il triangolare. Ecco, questa era l'intenzione delle emittenti abruzzesi, compresa la nostra. D'altra parte si è sempre fatto, soprattutto in un periodo, quello estivo e di precampionato, dove i diritti tv non hanno valore. L'idea è stata abortita in mattinata quando dall'ufficio stampa della Teramo Calcio, efficientissimo finalmente, ci hanno fatto sapere che la Lega Pro ha comunicato che per trasmettere l'intero triangolare bisogna pagare. Per un amichevole a tre? Sì, per un triangolare estivo la Lega vuole i soldi. E va bene. Quanto? A offerta. A offerta. Sì, avete capito bene. A offerta. Cioè, chi è interessato offre una cifra e può trasmettere la partita. Incredibile, ma vero. La Lega Pro chiede un'elemosina per poter riprendere e ritrasmettere indifferita le tre mini partite. Se siamo arrivati a questo punto, vuol dire che siamo alla frutta. Se la Lega Pro ha bisogno di spiccioli raccattati qua e là per sanare il suo bilancio, vuol dire che la situazione del calcio italiano, al di là della povertà tecnica che esprime oggi, ha anche una povertà economica che non può andare avanti senza il contributo delle televisioni. Ebbene, visto che ci hanno chiesto una libera offerta, noi di TV6 abbiamo offerto 20 centesimi. Meno di un'elemosina, questo è vero, ma l'elemosina è una cosa seria. Il contributo libero chiesto dalla Lega in questi termini, no. E allora, visto che l'offerta è libera, 20 centesimi ci sembrano più che sufficienti, visto che anche le televisioni hanno le spese, tecnico e giornalista che lavorano in giorno festivo, oltre al carburante per i mezzi, attrezzature e autostrada. Questo il nostro contributo. Oltre non andiamo, perché a tutto c'è un limite, anche alla dignità.